Ben trovati, quante volte ho fatto la riflessione che purtroppo la politica e chi ci rappresenta quando non riescono a trovare una soluzione ai problemi non è sempre per calamità esterne alla propria volontà, ma tante volte purtroppo succede che si è superficiali, che si è menefrighisti, che non si ha il quadro completo sotto controllo, ossia non si ha una visione generale delle problematiche che investono noi cittadini e ne sto avendo la conferma proprio in queste ore a proposito per esempio del taglio dell'acqua per tutti gli abitanti delle case popolari per Lecce, ma è un problema che vi è stato anche in altre province, maggiormente, certamente voi mi direte, nella provincia di Lecce. E allora cosa sta succedendo di positivo? E' che quando si prende di petto una situazione, una necessità, un'urgenza come quella dell'acqua, bene primario per la salute, per l'igiene, in un momento così particolare della stagione, in un momento così diverso rispetto all'inverno, essendo estate con quasi 40 gradi, ecco quando si sposa una necessità si cercano soluzioni, si agisce, si è determinati. Allora io non posso che applaudire alla iniziativa del Presidente Emiliano che con tutta probabilità imporrà all'acquedotto pugliese e agli ACP, oggi per esempio per quanto riguarda Lecce e provincia Arca SRL, di non tagliare l'acqua alle famiglie non morose e probabilmente anche a quelle morose ma con necessità impellenti. Perché ci sono bambini, anziani, diversamente abili, cittadini normalmente abili, che hanno il diritto di poter avere l'acqua come bene primario. Ecco perché dico che l'informazione deve stimolare, deve denunciare, deve prendere di petto e deve essere collaborativa quando le istituzioni collaborano. Quando queste se ne infischiano l'informazione deve diventare graffiante e cattiva. Forse lo siamo stati, forse abbiamo posto tante volte questo disgraziato problema con le tante telefonate che giungevano in diretta nell'anteprima del telegiornale e nel corso della giornata nella nostra redazione. E la posizione di Emiliano oggi e quanto avverrà martedì è importante. Perché la prossima settimana, appunto martedì, il neo assessore Salvatore Negro ha convocato gli organismi dirigenti, ha convocato lo IACP di Lecce Provincia e dirà a chi non ha voluto ascoltare in queste settimane anche la nostra voce pensando di essere tutelato in quanto organismo regionale dipendente dalla politica e non certo dalla informazione, dirà e imporrà che per questi mesi non sarà più tagliata l'acqua, non sarà più sottratto questo bene primario. E io chiedo e rivendico al Presidente Emiliano e all'assessore Negro che siano predisposti i contatori in ogni famiglia perché l'Acquedotto Pugliese ha un amministratore nominato dalla politica, l'Acquedotto Pugliese appartiene anche alla politica, l'Acquedotto Pugliese ha detto da più anni che dovrebbero essere installati i contatori in ogni nucleo familiare ma non è stato mai fatto. Allora prevediamo questa spesa e garantiamo coloro che sono dignitosamente in quelle abitazioni che onorano gli impegni economici e che non devono subire eventuali morosità altrui specie se queste morosità dovessero essere in mala fede e non per necessità economica. A domani! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!